Rifiuti aquilani al Cogesa di Sulmona sì, ma li evitano i costi per l'Aquila. Il capoluogo per conferire dovrà sborsare 158 euro a tonnellata aspettando un accordo definitivo. Martedì scorso la partecipata che gestisce rifiuti nella Valle Peligna aveva chiuso i cancelli. Il 31 dicembre scorso è scaduta la convenzione tra SM e Cogesa. Da lì un lungo tiro e molla e anche polemiche da parte delle due amministrazioni comunali, con scambi reciproci di accuse tra i primi cittadini. Il Cogesa all'Aquila ha chiesto di più come tariffa. Alla fine l'SM si è trovata costretta ad accettare temporaneamente tutto questo in attesa di un accordo nel quale si metterà tutto nero su bianco. Per il Cogesa non ci sono stati però problemi di natura politica ma piuttosto amministrativi e dopo 24 ore di stop quindi l'Aquila è tornata a conferire nella discarica di Noce e Mattei. Lì ci arrivano i rifiuti di circa 60 comuni del centro Abruzzo, compresa l'Aquila. Le questioni sul piatto dell'accordo sono due, principalmente la tariffa appunto ma anche la qualità dei rifiuti che si vorrebbero più differenziati per evitare la saturazione dell'impianto.